Come spesso accade, sono i fischi a fare da cornice alle uscite interne del Barletta. Altra domenica senza successi per la banda Ciullo, con la classifica che ora fa davvero paura. È 0-0 contro l'incerottato Casarano. I biancorossi ci mettono voglia, ma manca il guizzo vincente che possa schiodarli dal terzo-ultimo posto. Una vittoria nelle ultime 19 giornate. Ciullo prova a invertire il trend da incubo, non schiodandosi dal 4-3-3. Niente 4-4-2 dunque, come ipotizzato alla vigilia. Assenti, Garofalo e Cafagna. A destra gioca la Cassia con gli Ander, Fornaro e Del Prete, al fianco di Basanese e Centrocampo. In attacco tocca ancora la Monica giocare con Caputo e Pulina. Infermeria stracolma per Giuseppe la terza. Casarano decimato in attacco senza Raikovic, Perez, Falcone e Corvino. È conversiente indistinta, ma fuori dei giochi. Si passa al 4-3-3 con l'inserimento dell'ex Marconato da Mezzala. Tridente obbligato, con Citro e Gionai a spaleggiare Diop. Obbligato a vincere, il Barletta parte bene. Proiettile su punizione di Caputo, fuori davvero di poco. Al diciottesimo, la Monica si incune nel buco salentino. Macarotenuto, preferito a Pucci, è lesto in chiusura. Esce alla distanza il Casarano. Dalena, senza pensarci, calcia da 30 metri, esaltando i riflessi di Guido. Il portiere, titolare anche quest'oggi, recupera la posizione ed effettua una gran parata. Sul corner, altra super chance Casarano. Guastamacchia, gode di troppa libertà al centro. Trova l'impatto, ma non l'appuntamento con lo 0-1. Grana per Ciullo, out la Cassia, dentro Rizzo. Corsia di destra, ora con più spinta, ma meno copertura. Sprazzi di Gionai al 38esimo. Converge da sinistra, ma da troppo giro al suo piazzato. L'ultimo brivido del primo tempo lo regala Caputo. Prova a beffare carotenuto dalla distanza, ma è solo corner. Caputo, in evidenza, anche ad inizio ripresa. Aggancia col sinistro l'assist di Lamonica e calcia con l'esterno destro. Ma carotenuto c'è. Ci riprova Gionai al 54esimo. La giocata è la stessa del primo tempo. L'esito anche. Caputo regala un brivido ai suoi tifosi nella metà campo non di sua competenza. Ottima diagonale, ma rischio autogol. Per fortuna di Guido, la palla si spegne fuori. Ciullo lancia Diaz per Lamonica e Ngom per un generoso Pulina. Il Casarano cambia solo nel finale con Gambino per Gionai. Si fa vedere anche Cerutti. Botta dalla distanza, ma si resta 0-0. Freschezza centrocampo nel Barletta con Lippo per Fornaro. Proprio il classe 2004, all'alba del novantesimo, raccoglie la bella discesa di Rizzo a destra, sfiorando il palo con il tiro di prima intenzione. Non succede altro. Il Barletta raccoglie il trentesimo punto del suo campionato, ma non è esente dei malumori del pubblico. Al momento, disputerebbe il play-out con l'obbligo di vincere. Martina, Fasano e Angri, le avversarie, per cercare di cambiare il proprio destino. Il Casarano fa il massimo con i uomini contati. Nel prossimo turno, scontro diretto con il Matera per aritmetica, qualificazione e play-off.